ciao a tutti i ragazzi io sono dante oggi per la prima volta farò una registrarlo attività di gioco arrivo pure l'altro che parla e questa partita non sono solo abbiamo il ritorno di tb e compasso il marco e dopo una bella vacanza in montagna e abbiamo due nuovi aggiunti alu card con zix ciao a prestito il solito si sa in quale lì dovrebbe andare e darci nei commentari che mi farà da solo sono scena e benvenuti in un nuovo video ammazza ormai è allenato a fare il suo saluto iniziale ovvio sempre quello è sempre quello rimarrà io sono bevole di farso anche di canale di darkshen io invece non ho un cazzo di canale su facebook o a 100 anni per favore il titolo dell'ecofaccia di cultura l'unico un'altra data 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 sara ricorda non ti curi più come prima ok lo so spazio bella bello 30 di vita per 4 secondi si mi sono spaventato tante db quando monta il video la parte che dice io non ho nessuno ho pochi amici su facebook metti la musica di scrubs quella triste permetti un forever alone aprirà a sinistra posso dare sui con un forever alone vabbè se ci fosse buono in tutta questa roba poi che lancio una bomba mi lancio la cazzo di pompa non c'era nessuno no ho preso un pochino sicuro si bella ma che non ci credo non ci posso credere è riuscita a distruggerti è riuscita a distruggermela vergognoso sta cosa è risultato a cura sinceramente che camperoni d'erba camperoni d'erba ah credo sia la ward si sopra non me la distruggete ah so magari c'è la visione no 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 non ho messo un'allora direi di no ma qualcuno riesce a leggere i nomi di lax perché sto facendo una fatica seria sarebbe lax lux lax a lax xx 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 smiglia di 18 tutti i nomi non c'è non voglio io questo fancina ieri lasciato con su cui si è siano foto cosa pensi di fare buttanella no ci provare di anche buttanella 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 no 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 e è già finita il mano dovrebbero metterle banana ristora che ne so 100 di mana ragazzi non c'è la soraka in partita ehm a nessuno se l'aspetta la banana nessuno se l'aspetta beh ma se non ricordo male in warcraft c'è la banana che fa il mana si wow la frutta fa il mana e la carne della vita ma dove sta andando non lo so se l'ha ha guardato lì dentro ma non ce l'è si ha no si si no ha guardato lì dentro del tribus vabbè si piace guardarli dentro sono catti sui ma queste cattive è proprio dax ok vediamo poi l'altra lei come vanno mi puzza di jungle in arrivo ok non sta così indietro che che jungle ah mastery jungle in jungle in yeah ok allora posso stonartelo posso stonartelo? brutta no starlo basso starlo basso starlo basso starlo basso ah mi raccomando per chi guarderà questo video tralasciate le frasi di caitlin non è scemo stare va no no mi piace le pareti colpe rosciate a casa non è mica oriana non è mica oriana non è mica oriana gianna è quella che fa la frase più equuca di tutta è assurda è assurda quella è proprio è confermata dai di quella potente di solacca trans si guarda che dice eh la battuta trans nessuno se l'aspetta la banana era meglio di me vabbè che non mi piace molle e come diceva? no no tristana invece ah in tasca un razzo sei felice di vedermi proprio il schiziano il sesso si che io no 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 sto gioco che spirezza su ma che cosa dici tanto leggemmi sono meraviglioso questo gioco è casto come la chiesa se questo gioco è casto io sono madonna se questo gioco è casto io casto il mana giusto casta casta la schilva questo è mio stavolta stavolta lo prendo io dove lo prendi e cosa prendo prendo il minion cannone e non lo prendo in culo ben si lo prendo punto e basta la mia vita quella là vuole capirla vabbè sì no posso dire una cosa no no credo che adesso naso sta stia bestemmiando in faccia al jungler cosa è successo questo e sono in risultato del giangolo non ho mai cancato beh ora non che io sia triste però eccola la giangola ecco la storia gentile ma non 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 sono il terzo no va bene così nel dubbio quando lo spavano a cu in un punto tranquillo dovete andare a chi lezze master nel dubbio no meglio così a parte che è fatta la festa dove vi ritornerei con più oggetti e che ritorna con l'infinity edge ma è stato un po' sì ma io non ho male quindi non so prego mi aiutare poi guardalo si fa la doppia no appingato non ci credo cioè ci stava ci stava ci stava ci stava che cazzo dice ah aggressivo anche la final se l'avevo prima bam morto eh eh che scoporto femminile bam giù nel canestro no è vero questo taric è l'unico che mi piace no io provo a fare l'aggressivo e tu mi scappi beh la torre ti guarda bene no no come facciamo senza mano eh ricollo io poi tu ok perché ho lei il teleport quindi regolare prima si tranquillo tanto al massimo coltello anche perchè l'ha finito anche lui c anche perchè ho mille da spendere quindi hop testa allora direi proprio che una scena bene chi sceglie tombale con l'argetto troppo tratta tuttavia non è un'altra line, c'è un asus con già 87 cosi 87 cosi porca puttana quanto gas ha comprato cioè si è fatto le scarpette, la spadina, le gocce, quattro pozioni del mana e una divisa, ha capito capito come si vince easy vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ok fermo stumbo ma non ho mai fatto le cose che non dettive corso c'è provato tutta nella ss rust dal Vocêf posto solo naso commento ma che culo ma con questo si chiama. come questa foto male questo è il testo è morto per il nostro scanto non ha sbagliato ma lo studi sono sopravvissuti anche alla passiva di conti ma continua ad attaccare tranquillo tanto non sta arrivando nessuno non faccio male ma la sospetto che spanni tutte le tue mosse per un po' inizia a fare video. o preselle e video club pro player piccari il non si muoveva questo questa settimana viene scelto un player di p e di piazza non è esatto ecco questo non sparare il corpo ok tutto il piccolo zig con la scena che avanza nooo penso di curare grazie che facciamo io sei al 6 io vado tanto non per per aspetta che facciamo ci buttiamo aspetta che si avvicina un pochino oppure ci sia cosa non c'è se era tipo senza vita anglicizzare questo è anglicizzare guarda questo qua come ha scritto anglicizzare Oh c***o Boombate Sexy baby Sexy babbano Sexy babbano Ma gli SS da mid Vedete, gli SS di mid sono una cosa Extra Sono un extra Vuoi dire SS da mid Non importa, vuoi anche non dirlo Tanto mica se te quello che muore Ma che c***o And you can't escape Si ho capito ma l'SS lo devi dire Ma che io guardo loro, mica guardo il fiume Giusto, lo dice pure Katie Giusto Certo, se lo dice Katie Se lo dice Katie Si viene in lecce Mannaggia, mannaggia Ci buttiamo No, attacca un c***o Bravo, attaccami No, fuori California Show me love Get pussed, get p***ed up California Throw it up Get pussed, get p***ed up